Allora, continuiamo. Io quando prendo gli impegni Noi dell'Udc Noi dell'Udc Noi Noi dell'Udc Noi dell'Udc Noi dell'Udc Noi dell'Udc Volevo dire io che ha sbagliato il fatto che ha statuto accanto alla sua sinistra dire qualcosa Qua ci sono le famiglie altamente E ci sono il popolo altamente C'è un popolo altamente Noi dell'Udc Noi dell'Udc Io mi feraviglio che vengono a dire Allora Noi dell'Udc manteniamo gli impegni io ho sentito che c'era un disagio che apparteneva alla gente di Alcamo che non è soltanto la gente di Alcamo un disagio che era siciliano e nazionale e che riguarda un problema di strategia politica su come le imprese, i cittadini, le famiglie vedono e capiscono quello che sta succedendo in Italia e il fatto di come non riescono più ad avere delle risposte